... eravamo la vita ma punite un mio caro vedi, se ne importo queste cose che è che apparezzo l'unica cosa che sente per me è un freddo e quando era a piedi? L'uciglio dei gambe e voi ci siamo andati che a Marianna qualsiasi cosa di me gli sta bene io devo pensare così asciutto per fare trasparente ma che matti per il pescotto di cioccolato di Marianna è una specialità la regina delle baci e oggi è vero cara vi ha fatti appositamente per onorare noi arrivati alla fata apposta per te grazie ma potremmo immaginato per mangiare lo pescotto di cioccolato che si mette in giro ma stasera un pazzino questo sapato ma stasera un pazzino ma stasera un pazzino dice ma mettiam catore questa sapato lo fai anche uno non è uno non è uno masning se ne pensate se no a me lascio pulire lo scioglio un po' la panza allora noi non ne facciamo dare nuna tutta la quale che c'è tra i buoni ma sempre così Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.